Buonasera e benvenuti. Saluto anche i docenti che sono collegati da remoto, circa una quarantina di insegnanti. E questa è la terza conferenza del ciclo Calvino. Tutte sono tenute dal professore Allegri che non presento più perché è già stato presentato la prima volta e la seconda volta, quindi ormai lo conoscete bene. Allora, oggi l'argomento è il romanzo La giornata di uno scrutatore del 1963, pubblicato nel 1963, perché in realtà è ambientato durante le lezioni del 1953. I prossimi incontri sono il 28 di questo mese, il 28 febbraio, e il tema saranno le città invisibili. E poi l'ultima lezione del ciclo, dedicata questa volta non più a un racconto, ma al saggio, splendido saggio, testamento, per così dire, dello scrittore, cioè le lezioni americane. Io non indugio oltre e lascio la parola al professore Allegri. Grazie. Bene, grazie, buonasera a tutti, benvenuti. e niente, questa volta spero di essere più breve. Mi è stato chiesto di essere un po' più breve, in modo... Ma è la passione qualche volta che prende, per voler dire tante cose, perché questo è uno scrittore, diciamo, forse è l'ultimo nostro grande scrittore. Infatti, diciamo, il sottotitolo, abbiamo detto, l'ultimo dei classici. Poi magari saremo smentiti, in questo momento ci sarà qualcuno che sta scrivendo il capolavoro dei primi vent'anni del nuovo millennio. Ma Calvino è sempre molto complesso, è sempre molto stimolante ed è paradossalmente stimolante nella misura in cui non offre mai soluzioni definitive. Non lascia mai, diciamo, soluzioni definitive. Non c'è quello che una formula retorica è insulsa, si dice sempre il messaggio dello scrittore. No, chi legge Calvino deve tirarselo fuori, deve cavarselo da sé, sulla base anche della propria sensibilità, che può non essere quella di Calvino, sia per la diversità della formazione, sia perché i tempi cambiano e le sensibilità cambiano. E quello che per un lettore degli anni 50-60 era, se usiamo ancora questa espressione, il messaggio del libro, il contenuto primario del libro, il nucleo del libro, può non esserlo più perché la nostra sensibilità è molto mutata. Se poi c'è di mezzo quella formula assurda, io la ritengo una formula assurda inesistente, ma che viene usata tantissimo, il postmoderno, non si capisce bene cosa sia, basta guardarsi intorno, basta accendere la televisione e sentire un telegiornale per rendersi conto che siamo proprio dentro, siamo proprio dentro il nostro tempo e il post è meglio lasciarlo perdere. La giornata di uno scrittatore è il libro di Calvino di più lenta e complessa scrittura. Ci mette dieci anni, ci mette dieci anni a portarlo a termine. Quasi dieci anni, tra il 1953 e il 1963 compreso, come spiega la nota d'autore, io non so se nelle edizioni che avete a voi c'è, ma credo di sì, questa nota d'autore che nell'edizione originale erano queste quattro o cinque righe, in cui spiega molto bene la genesi di questo libro e spiega anche come va letto e come non vada a letto. Tra il 1953 e il 1963, tra le due visite al Cottolengo come scrutatore per conto del Partito Comunista Italiano. La seconda visita proprio per mettere meglio a punto la scrittura del romanzo che viene scritto nel 1963 dopo questa seconda visita, ma che è ambientata, ambientato nel 1953. La definizione di romanzo è inesatta, è inesatta. E non piaceva nemmeno allo stesso Calvino. Perché? Perché il libro è un ibrido di più generi. È un racconto filosofico, un pamphlet anche, un reportage. Non è autobiografia perché è raccontata in terza persona, ma soprattutto perché nelle due circostanze, 1953 e 1963, l'autore si comportò in maniera molto diversa. Si comportò in maniera molto diversa. La prima, il 7 giugno del 1953, cui si riferisce questo nostro racconto, in occasione delle lezioni che sono passate alla storia come della legge truffa, che avrebbero potuto dare alla democrazia cristiana la maggioranza dei due terzi dei seggi in Parlamento, dei rappresentanti in Parlamento, con solo il 50% più uno dei voti espressi. Sono note le polemiche, ci furono movimenti di folla, contestazione, polizia, eccetera, eccetera. E poi la cosa andò, invece, andò morta. Andò morta perché i democraziani non riuscivano a prendere il 50% più uno. E quindi ci fu una battaglia furiosissima. E tra le cose che il Partito Comunista, che la sinistra voleva evitare, era il voto a pioggia, oltre che di preti e suori che ne avevano diritto, anche di gente che non era in condizione di votare, di esprimere razionalmente e affettivamente proprio un voto. Quindi nel Cottolengo, dove c'è questa umanità che è devastata, che è esiliata dal resto della società, perché è devastata dal male, dalla sofferenza, dalla malattia, non so se è noto che cos'è il Cottolengo, questa istituzione PIA, che è stata fondata appunto da Cottolengo, che si occupa proprio degli, nell'Ottocento ancora, che si occupava proprio degli emarginati, ma dei più emarginati, dei poveri, dei dereliti, eccetera, ma anche di quelle mostruosità, di quelle creature mostruose, mostruose, che erano frutto anche della miseria, della povertà dell'Italia da allora e anche dell'Italia del dopo, dell'Italia del dopo, soprattutto nelle campagne, nelle montagne, dove l'incesto o l'alcolismo, queste cose qui, erano diffusissime. Ecco, io ho fatto una visita, una volta al Cottolengo, ed è una roba, una cosa molto, molto scioccante. A Calvino sarebbe piaciuto, e lo aveva dichiarato più volte, inserire questo libro, questo romanzo, che non è proprio un romanzo, nel filone saggistico della nostra letteratura. E non a caso, perché lui era un grande lettore, un grande appassionato di Galilei e di Leopardi, ma dei Leopardi, l'abbiamo già detto, non tanto dei canti, ma delle operette morali. Erano le sue letture predilette. Siamo nel 1963, l'anno della neo-avanguardia, del gruppo 63, ma l'incipit del romanzo, continuiamo a definire il romanzo, ma l'incipit del romanzo, è da scrittura naturalistica, da romanzo naturalistico. Cito, Amerigo Ormea, uscì di casa alle 5 e mezza del mattino. La giornata si annunciava piovosa. È un incipit classico proprio di un romanzo naturalistico. Siamo nell'anno del gruppo 63, della nuova sperimentazione, ma abbiamo detto più volte, e lo ripeto, va bene, lui è un personaggio, è uno scrittore che se ne va per conto proprio. È un isolato quel vino. È sempre stato un isolato, anche se è stato in mezzo proprio alla cultura più mossa, più viva di quegli anni, nella casa dei Trici e Naudi, con Pavese vicino, con Vittorini, e questa gente qui. Però lui fondamentalmente è un isolato. È l'ultimo omaggio che Calvino rende all'idea illuministica della letteratura, senza tuttavia che ne esca una pedagogia definita. Anzi, diciamo che a sinistra questo romanzo fu visto e fu accolto con moltissima perplessità, con moltissima perplessità, perché uno non se l'aspettava da Calvino una scrittura del genere. Da quel Calvino che non mancano mica tanti anni, sono soltanto sei, sette, dieci anni al massimo, quel Calvino che continuava a dire voglio scrivere un romanzo socialista, operaio, eccetera, eccetera. Questo è tutto un'altra cosa che lascia scioccato il pubblico e soprattutto il partito, la zona, diciamo, politica e l'ideologica cui appartiene il protagonista del romanzo che chiaramente Calvino, anche se abbiamo detto che non è una narrazione autobiografica. Allora, senza che ne esca una pedagogia definita. Qui ne escono soltanto dubbi. Dalla lettura di queste pagine escono soltanto dubbi, escono soltanto domande che non danno risposte e se le danno sono risposte che lasciano sconcertate. Ben significate queste pagine e questi dubbi e queste domande dall'abbondanza straripante, veramente straripante, di frasi incidentali, di frasi incidentali e da parentesi. e da parentesi che testimoniano da un lato testimoniano da un lato la volontà di vedere più piani possibili in ogni concetto e in ogni pensiero e in ogni pensiero per restituire la complessità delle cose, no? Per ricostruire la complessità delle cose. È la scrittura cosiddetta ragionativa, di Calvino che culminerà in Palomar nel 1983. Apro una parentesi, nell'ultimo corso che ho fatto all'università che era proprio su Calvino, la lettura risultata più difficile più difficile era quella di Paloma che è veramente una lettura difficile e molto impegnativa. Per illustrare questa sua scrittura, questo suo modo di procedere, di procedere, lui si serve, Calvino, si serve della metafora delle foglie del carciofo, come è noto, la metafora delle foglie del carciofo con i suoi strati separabili nettamente l'uno dall'altro, il carciofo si sfoglia, si sfoglia anche quando si cuoce, con i suoi strati separabili nettamente l'uno dall'altro, il confine netto tra positivo e negativo viene cancellato, viene cancellato perché se ogni se ogni piano se ogni piano che sfoglio mi esce fuori un'idea, un pensiero, una constatazione che mi nega quello precedente, ecco che tutto è continuamente da rifare, da rifare. No, allora in questo modo i termini della questione che viene affrontata si dilatano, si dilatano e per conseguire esattezza e qui c'è proprio Calvino, c'è già il Calvino anche delle ultime opere, per conseguire esattezza contrariamente a quello che faceva Manzoni per via di levare e qua bisogna aggiungere, qua bisogna ogni volta aggiungere qualcosa a una constatazione fatta precedentemente ne aggiungo un'altra che può anche magari che so contraddirla in parte onettamente eccetera. Ecco, si pensi per esempio vi porto due esempi alle sei lunghe parentesi del capitolo due dove il protagonista Amerigo è lì che tenta una giustificazione del suo dirsi comunista io vado al seggio per difendere il voto per difendere la legalità eccetera e per difendere gli interessi del partito comunista ma perché ci vado sono veramente convinto devo dire anzitutto a me stesso piove fa freddo non è la giornata giusta lui poi è uno di umore variabile eccetera eccetera perché vado lì ma come perché vado lì perché sono comunista sono comunista e lo voglio spiegare e lo devo e lo devo spiegare però come lo spiega ci sono sei lunghe parentesi una dietro l'altra alla fine del racconto quindi non è una spiegazione diretta non è una cosa facile nemmeno nemmeno per il protagonista dirsi comunista dirsi perché sono perché è comunista ho anche un altro esempio nel capitolo nel capitolo quinto dove mentre la scrutratrice no c'è una scrutatrice che credo sia sia socialista o anche lei di sinistra comunista eccetera non 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 è chiaro mentre la 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 scrutatrice tenta di opporsi al broglio elettorale perché c'è un prete trafficone no per cui tutti possono votare liberamente ma sì ma capisce questo capisce tutto è intelligente ci vede ci sente quando l'evidenza l'evidenza dice esattamente l'opposta mentre questa donna la scrutatrice tenta di opporsi al broglio elettorale Amerigo naviga naviga in pensieri lontani e sono pensieri perfino edemici di serenità di pace di tranquillità che vorrebbe che vorrebbe avere da un altro lato abbiamo detto prima da un lato questo da un altro lato il disagio ideologico dello scrittore è il disagio del razionalismo di fronte alla negatività è un'esperienza che abbiamo fatto tutti e che facciamo spesso e che abbiamo fatto anche in questi giorni abbiamo fatto anche in questi giorni un terremoto spaventoso che sconvolge un paese che fa che provoca la morte di decine di migliaia di persone innocenti che distrugge economie che distrugge speranze e sogni eccetera la negatività è come te lo spieghi è come te lo spieghi il tentativo disperato alla fine della vita che fa che fa Giacomo Leopardi che fa Giacomo Leopardi nella ginestra quando invoca la social catena in qualche modo e qui c'è qualcosa di simile della social catena anche se alla fine si chiama amore amore no è il disagio del razionalismo di fronte alla negatività che qui è rappresentata dalla malattia certamente ma più ancora ma più ancora dalla deformità spaventosa e spaventevole non è un gioco di parole spaventosa e spaventevole del cotolengo del cotolengo di fronte lo diremo dopo agli uomini pesce agli uomini piante agli uomini agli uomini cosa agli uomini cosa che non si riesce proprio a definirle no al brutto al brutto del mondo al brutto del mondo no la grande domanda del libro è se il negativo quello che per intenderci per Montale Montale definisce l'anello che non tiene cito l'anello che non tiene sono famosi questi versi no il rivo strozzato l'incartocciarsi della foglia e qua di foglie incartocciate accidenti quante ce ne sono insomma se il non essere perché alla fine si tratta di questo alla fine si tratta del non essere sono esseri umani ma che non hanno nulla della nostra visione quotidiana giornaliera economica dell'essere se insomma il non essere questa è la domanda può essere recuperato in qualche modo ad una qualche ragione d'essere se il non essere può essere recuperato ad una qualche ragione d'essere ma perché ci sono questi mostri c'è qualcosa che possiamo capire che in qualche modo ci spieghi questa roba spaventosa che abbiamo davanti allora c'è dunque un filo sottile che congiunge questo romanzo alla favoletta del cavaliere inesistente tanto per dare un poco di continuità e in parte anche al visconte dimezzato perché qui di gente dimezzata i personaggi dimezzati ce n'è in abbondanza allora qui non si tratta più della scelta laica tra il bene e il male ed è il fascino di questo libro che poco per volta ci porta a questa constatazione no qui non si tratta più della scelta laica tra il bene e il male qui Calvino si affaccia metafisicamente ecco quello che sconcertava i compagni della sinistra e il partito comunista no qui Calvino si affaccia metafisicamente sul nulla sul nulla staccandosi da quella visione razionalistica e l'abbiamo detto la prima volta anche per educazione per formazione e per scelta personale lo aveva sempre tentato l'insegnamento dei genitori scienziati no della madre soprattutto no bisogna fare qualcosa di utile e di e di concreto no e quindi devi sforzarti di essere in qualche modo di avere una visione sempre razionalistica nel senso nel senso del 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 concetto che di scienza abbiamo noi in occidente ecco per dire no lo aveva sempre tentato questa questa visione razionalistica qui però l'abbandona definitivamente l'abbandona definitivamente alla conclusione del libro il protagonista si chiama Amerigo Ormea e contiene già è noto a tutti voi no questo già nel nome le sue contraddizioni Amerigo come Vespucci quindi il navigatore l'esploratore per mari sconosciuti in questo caso i mari sconosciuti per Amerigo sono quelli del pensiero libero del pensiero libro non ancorato a ideologie e però il cognome Amerigo sì vaga e però l'altro nome il cognome Ormea che cosa significa significa l'ormeggio saldo anzitutto a difesa delle proprie certezze ad un'idea quella illuministica illuministica scusate e marxista ben raffigurata nel capitolo undicesimo dai libri della sua biblioteca nell'intervallo tra una seduta e l'altra al seggio anche per respirare un po' perché questa visione di questo brutture di queste spaventosità lo turba se ne va a casa e dove cerca conforto c'ha una donna che li prepara da mangiare una donna di servizio va subito in biblioteca va subito in biblioteca e la sua biblioteca è lo specchio di quello che ha deciso di voler essere ha deciso di voler essere è la biblioteca di un marxista di un comunista tantissimo Hegel tanto tanto Marx e tutto quello è tutto quello che viene dietro no e quindi va subito a rifugiarsi nella lettura di Hegel e di Marx nel capitolo undicesimo è uno scapolo comunista uno scapolo comunista anche se nel libro a un certo punto a un certo punto sappiamo sì che non è sposato certamente ma che ha una compagna Lia no e anche qui i critici furono furibondi con l'ingresso di questo personaggio femminile no dicendo che non c'entrava assolutamente niente con lo spirito del libro e Calvini invece lo ha difeso allo streno entra nell'undicesimo capitolo e se non sbaglio nel tredicesimo capitolo anche è uno scapolo comunista un intellettuale che possiamo dire gramsciano che si è dato un ordine si è dato un ordine una disciplina intellettuale e politica e si obbliga da buon massista all'ottimismo della volontà possiamo dire no all'ottimismo della volontà sì il mondo è questo adesso così ma non un tempo verrà che non ci sarà più questo questo quest'altro quindi si è dato un ordine una disciplina intellettuale politica si obbliga all'ottimismo della volontà infatti è al cottolengo per vigilare sulla correttezza del voto in quel particolare momento storico suona la tromba ed ecco che il militante comunista obbedisce e va dove è certo che ci sarà un imbroglio è certo che la DC farà un grandissimo imbroglio un grandissimo imbroglio io sarò lì nel mio piccolo per evitare che l'imbroglio venga fatto che l'imbroglio venga fatto abbiamo detto l'intellettuale Gramsciano si è dato un ordine disciplina intellettuale si obbliga all'ottimismo della volontà però è pieno di dubbi è pieno di dubbi ne ha tantissimi ne ha troppi è un pessimismo è un pessimista disilluso ancorato però a una morale laica comunque affermativa comunque affermativa che proprio di Calvino abbiamo detto anche per gli insegnamenti ricevuti in casa sua per cui sempre cito occorre fare quel che si può eccitazione esatta occorre fare quel che si può anche nella sua vita privata e sentimentale regnano dubbio e disagio la relazione appunto movimentata con l'IA e qui ci sta il personaggio femminile però se no sembra quello di un funzionario ottuso e privo di una vita personale ed affettiva no anche nella vita privata regnano dubbi e disagio la relazione movimentata con una ragazza di nome Elia nel capitolo undicesimo definita da da lui da Merigo cito irrazionale addirittura prelogica la definisci così no addirittura prelogica e tornerà in capo ancora nel capitolo tredicesimo nell'intervallo dal suo seggio per una telefonata che gli fa saltare e ghiribizzo no le ragioni di un suo pessimismo individuale di fondo connaturato e tenuto a bada solo dalla disciplina della militanza marxista non tarderanno però a farsi vive vivi nella progressiva discesa agli inferi perché proprio di questo si tratta qui siamo di fronte proprio a una discesa agli inferi del cottolengo sconcertante questa discesa ancora prima che dolorosa dolorosa senz'altro ma all'inizio è sconcertante apro una piccola parentesi chi di noi io ci sono andato e penso anche tanti di voi chi di voi è andato non dico estrettamente ad Auschwitz ma anche in altri campi esterminio mi ricordo la visita spaventosa che ho fatto a Buchenwald sopra Weimar Weimar sotto Weimar sotto no sotto sopra questa collina Buchenwald che è il bosco dei dei fagi se non sbaglio la traduzione a Buchenwald sotto Weimar Goethe Schiller la corte di Weimar il Sturman tutto quello che volete sopra l'inferno sopra l'inferno la prima sensazione che si ottiene dopo ricavi dolore è lo sconcerto è lo sconcerto la prima sensazione che Amerigo prova quando si trova davanti al deficiente all'idiota all'uomo pianta all'uomo pesce al brutto disseminato ovunque è di sconcerto più che di dolore il disagio fisico di Amerigo in apertura di racconti si avvia cito verso quella città nella città con le scarpe bagnate con le scarpe bagnate è un grande bravo Calvino per darci subito l'idea del disagio del personaggio pensa alle scarpe bagnate alle scarpe bagnate perché piove tra viuzze strette e case povere diventa presto disagio ideologico diventa presto coscienza inquieta e sforcia infine in una riflessione metafisica così la ragione tutta politica per cui si trova a fare lo scrutatore sbiadisce infine si dissolve di fronte all'orrore della malattia della deformità dei corpi pianti o pesce o animali non si sa bene come definirle tuttavia Calvino scrittore abbiamo detto la prima volta no vocato all'autocensura delle emozioni elude la tentazione della loro più facile e emotivamente impattante resa espressionistica potrebbe sbizzarrirsi no in una descrizione espressionistica calcata sottolineata pesante di queste brutture si autocensura le racconta soltanto e basta sulle prime egli tenta di difendersi dall'assalto del deforme del brutto ma le difese poco per volta franano impossibile contrapporvi la bellezza come salvezza nel capitolo 5 no cito torna troppo in alto nella scala dei valori sarebbe il primo passo verso una civiltà disumana eccetera Sparta Hitler eccetera eccetera ma inadeguato è anche il ricorso alla presunzione razionale venuto al seggio per smascherare l'imbroglio politico Amerigo si scontra con l'imbroglio metafisico con l'imbroglio metafisico che è il nucleo del capitolo 9 il più filosofico dei 15 con citazioni di Voltaire di Leopardi di Kierkegaard e Kafka qui si ripresenta con concretezza brutale violenta l'antica inestricabile separazione tra l'uomo e la natura la prepotenza invincibile del caso cito la potenzialità biologica cieca della natura quando Lia gli dice guarda che forse sono incinta ma come sei incinta ma come perché eccetera ma ci hai pensato ma 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 è subito presa alla possibilità di un controllo generalizzato mondiale delle nascite ma la natura se ne frega di questi controlli la natura la natura sfuse la potenzialità biologica cieca della natura quindi nessun controllo pianificato della vita potrà mai opporsi altro che le magnifiche sorti di progressive della ragione del massismo il suo fermo proposito iniziale di ergersi a custode e garante della legalità elettorale come possono votare liberamente queste creature private delle funzioni fisiche e soprattutto intellettuali questo suo proposito tranne in poco tempo davanti alla realtà davanti a cosa davanti alla leopardiana vanità del tutto no la vanità del tutto leopardiana che spiazza la sua pretesa di cito costruire noi la nostra storia si tu pensi di costruirtela la storia ma la natura è più forte di te è più forte di te no sulle pendici del monte sterminato vesevo nel vesuvio che stermina che uccide tu puoi costruire la città le più belle città e la natura te la distrugge in un allora l'edificio ideologico ed interiore di Amerigo è molto presto in macerie ogni capitoletto ogni capitoletto rade al suono ogni pensiero e ogni azione per poi ricominciare con una finta calma in quello successivo nel girone successivo nel capitolo 12 che descrive la discesa nel girone peggiore dei malati gravi dei mostri degli irrecuperabili in questo in questo capitolo troviamo le pagine più intense più turbate del libro Amerigo riesce sì anche ad evitare il broglio elettorale a un certo punto sbotta davanti al prete dice ora basta e se capo dice ora basta ora basta non solo per dignità del malato dell'infermo di quello che è che non si sa bene come definire ma anche per noi ma anche per la funzione che abbiamo tutti ora basta e il prete poco per volta anche lui la smette si arrende perché di fronte a situazioni spaventose come quelle non si può non si può proseguire in questa finzione riesce sia ad evitare il broglio elettorale ma la sua attenzione è altrove in questo capitolo e si fissa attentamente su due figure quella famosissima che c'è su tutte le antologie scolastiche del vecchio contadino che schiaccia le mandorle al figlio idiota è quella della vecchia suora che in questo inferno si muove disinvolta come cito in un giardino pieno di salute come è possibile si dice no la domanda che a Rigo si pone che a Merigo si pone a questo punto è la chiave del libro e del rovello del suo autore i protagonisti di quello spettacolo desolante hanno avuto possibilità di scelta autonoma è un interrogativo che riguarda anche noi tutti nel nostro quotidiano no spesso lungo il nostro percorso di vita abbiamo avuto davvero una possibilità di scelta il vecchio e il figlio non l'avevano certamente avuto avuta la sua invece si e cito rimaneva distinta dall'oggetto della sua missione padrona di sé felicemente libero come a Merigo non è rispetto alla sua missione qui al cotolengo i due padre e figlio stavano insieme perché erano forzatamente necessari l'uno all'altro forzatamente e non liberamente e forse riflette Calvino cito questo modo d'essere forse però questo modo d'essere è l'amore allora per dare un senso un fine al mondo cotolengo non serve la ragione non serve la ragione ma serve un atto d'amore da parte dell'uomo e l'umano dunque cito ancora arriva dove arriva l'amore non ha confini se non quelli che ciascuno di noi di volta in volta gli assegna la vera conclusione del libro è in questa successione di frasi riflessioni la chiave dei rapporti umani e del rapporto con la realtà non sta nella ragione ma nell'empatia nell'amore al cotolengo Calvino scopre la sofferenza priva di contropartita il male insuperabile dalla ragione dialettica e la sua risposta pudica sommessa quasi è l'amore anche nel sentiero dei niri di ragno sapete c'è qualcosa del genere nel sentiero dei niri di ragno è l'amore il discrimine delle scelte individuali e della storia cito dal sentiero ti amo Adriana questo nient'altro che questo è l'amore sin dall'inizio c'era mascherato da tante ideologie da tanta volontà di costruzione socialista c'era il tema dell'amore no ti amo Adriana questo nient'altro che questo è l'amore con l'ultimo capitolo il quindicesimo è la comparsa dell'omone cinquantenne senza mani nato e cresciuto dentro il cotolengo che però sa far tutto come un uomo normale Calvino mette in campo un'altra sua un'altra morale a cui tiene molto quella dell'uomo Faber no e di tutte le sue possibilità infinite senza limiti in qualche modo cosa fa in qualche modo pareggiando così dalla parte progressista la difficile giornata dello scrutatore oltre la nostra storia allora c'è un infinito che la rende minima che la rende minima ma non ma non ma non trascurabile oltre la nostra storia c'è un infinito che la rende minima ma non trascurabile ma l'infinito al di là della nostra storia è la storia del mondo come evoluzione inarrestabile allora e chiudo è un modo per dare ancora un senso all'azione è un modo ancora per dare un senso al soggetto storico ma è un fatto che dopo questo libro Calvino si concentrerà sempre più sul mondo sulla natura sull'informatica sulle possibilità combinatorie infinite più che sulla società e sulla politica è il suo primo congedo cioè l'abbandono della letteratura come tensione tra soggetto e storia grazie ma io ho provato a come dire è difficile fare una sintesi no perché come dicevi all'inizio questo romanzo chiamiamolo così è un ibrido è sì è forse è più un romanzo filosofico no che altro è un ibrido che però non ha una sua organicità che con una soluzione finale no che solleva esatto una cosa che mi ha lasciata rileggendolo come dire un elemento ricorrente ricorrente è questa chiamiamola struttura binaria no cioè la realtà ha sempre due facce così come il il cotolengo è il luogo della pietà ma è il luogo dei broli elettorali la il comunista il comunista ha due anime una liberale uniformista e una rivoluzionaria ma anche il suo rapporto con le donne no cioè dice che è venuto nel corso del tempo l'esatto contrario del rapporto che lui ha con i libri cioè all'inizio leggeva di tutto poi man mano con il passare degli anni è diventato più selettivo al contrario invece del suo appunto rapporto con con le donne e questo come si può come entra questo è un elemento troppo ricorrente quindi deve avere una sua come posso dire una sua ragione no dal punto di vista evidentemente del narratore come si può come si può giustificare cioè rientra in quello che tu dicevo nei dubbi no nel fatto che lui si trova sempre diciamo di fronte a delle polarità no e e non e non riesce a provare come dire una linea e una giustificazione razionale tant'è che poi appunto il romanzo si conclude con un messaggio di di tutt'altro di tutt'altro tenore sì è stato accolto malissimo è stato accolto malissimo dalla dalla sinistra perché non se l'aspettavano no la soluzione può essere l'empatia nel libro nel libro quando lui esamina quando Amerigo esamina le le foto tessere delle suore eh delle suore quel passaggio lì quel passaggio lì è molto bello guarda queste foto tessere e nelle foto queste suore sembrano sembrano tutte invariabilmente indifferentemente serene tranquille serene eccetera e allora si chiede ma come mai va bene dipende forse dal lavoro che fanno qui dall'essere dall'essere buone eccetera e si affaccia si affaccia per un momento ma certamente da 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 militante da militante da militante comunista marxista dall'eopardiano dall'eopardiano qual è Amerigo non può non può lasciarsi andare a questa ipotesi che balena comunque nel libro che sia la grazia che abbiano avuto una sorta di grazia ma la grazia è un concetto talmente cattolico talmente cattolico che 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 non basta che non può essere accettata da lui e la lascia lì però l'ipotesi c'è ma perché queste sono tutte così così serene così angeliche così 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 soddisfatte quando si guardano si guarda queste foto esista un cliché fotografico per le suore per cui risulta no deve essere qualcosa che ha in qualche modo a che fare con loro essere qui in questa situazione particolare ma non possono avercela fatta soltanto con le forze umane con le loro forze però Calvino si ferma qui e quando tu dici giustamente questo 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 procedere vero binario è vero ma è qui l'interesse di Calvino perché Calvino e forse qui entra in gioco la sua la sua educazione bene Calvino non si permette mai di darti una verità assoluta non lo farebbe mai neanche sotto tortura no mai ecco non è lo scrittore che ti dà la sua morale la sua visione del mondo la visione del mondo mia è questa eccetera eccetera no è proprio il sistema del carciofo no si sfoglia ogni cosa può avere continuamente e successivamente un altro valore un altro significato un altro ruolo un altro scopo un altro scopo sta a te lettore sta a te lettore ma Calvino non assegna mai una morale a nulla di quello che ha scritto a nulla di quello che ha scritto e questo spiega e questo spiega perché non è riuscito a fare il romanzo socialista ed operaio perché per fare il romanzo socialista ed operaio avrebbe dovuto caricare violentemente la sua carta mettere sul banco la sua carta più forte e ideologica non lo fa mai non lo fa mai ed è appunto questo 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 suo procedere vero narrativo che è sempre propositivo ma che sia propositivo non vuol dire propositivo in bene propositivo un'altra ipotesi e poi ce ne può essere un altro ancora l'ultimo libro l'ultimo no l'ultimo libro il penultimo insomma se una notte d'inverno un viaggiatore è la traduzione senza però nessun impegno e senza nessuna pretesa se fosse questo sì è un libro è un romanzo possiamo definire un postmoderno se vogliamo dare questa formula questa accezione nel senso che alla fine questo libro non conduce a nulla non conduce è un'esercitazione è un'esercitazione di quelle che di cui si era si era innamorato lui le infinite possibilità combinatorie eccetera eccetera ecco ma 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 non c'è mai una soluzione in Calvino non c'è mai la lascia la lascia rispettosamente ecco insisto su questo la lascia rispettosamente a chi legge non si azzarderebbe mai e questo è un segno di grandezza è molto diverso da questo punto di vista dal dal suo amico ma è diverso in tutto anche ma in tutto proprio e sì che stavano sempre insieme vero Vittorini che invece le sue verità quando quando pensa di averle te le sbatte in faccia senza senza tanti complimenti è un viscerale vero Vittorini è un viscerale di un'intelligenza e di un fascino e di un fascino unico no chi chi l'ha conosciuto mi ricordo una volta parlavo con Crovi con Raffaele Crovi quel padre non quel figlio che era amico proprio di banco all'Enaudi in altre in altre imprese editoriali era è un vulcano Vittorini no di idee nuove ma magari anche contraddittorie ma nel momento in cui lui pensava di avere una verità te la buttava in faccia sicuramente come come quella definitiva lui dice è così Calvino è così e questo è il suo è uno dei suoi fascini maggiori io credo è molto rispettoso del lettore è molto rispettoso del lettore non so se è una forzatura ma mi pare che forse il miglior commento che si potrebbe fare alla giornata di uno scrutatore è dentro la prima delle lezioni americane quella sulla leggeretta perché c'è quella bellissima immagine tratta dal mito di Perseo che taglia la testa della medusa ma senza guardarla direttamente ma vedendone l'immagine riflessa in uno specchio ma non solo poi adagia il volto del mostro a faccia in giù cospargendo perché la sabbia non non rovini il botto della medusa copre la sabbia di foglie di ramoselli e solo che benché la testa sia tagliata pietrifica ancora quindi trasforma quei ramoselli in coralli in rami di corallo e così fa il poeta che la la mostruosità il brutto della natura e della realtà viene sublimato in un certo come dall'arte e dalla leggerezza del poeta e io ho pensato che proprio non c'è mai ma anche quando parla del reparto peggiore quello dei nascosti non c'è mai come dire non induce il lettore a un sentimento di repulsione mai c'è piuttosto si sente l'empatia la compartecipazione dello scrittore e in quel luogo scopre appunto fin dove l'amore fin dove l'umano appunto può arrivare la discriminante tra umano e non umano l'amore ma anche il finale il finale che ricorda certe immagini certi quadri certi pittori queste suove che in questo cortile di questa di questa città tra l'altro va bene questo questo accenno alla città nella città eccetera ci avverte è che le città invisibili sono lì insomma pronte il tema della città che c'è sempre in Calvino c'è anche anche nel sentivo degli lì di di ragno la città questo paese questo questo questa cittadina ligue eccetera è una parte integrante una parte integrante ma queste suore o inservienti suore che si corrono dietro no che spingono questo carro con la con la con la biancheria e ridono perché fanno fatica scherzano giocano eccetera è è una luce di di quasi gioia sulla 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 fine del libro che inizia con la pioggia con l'acqua con i piedi bagnati eccetera e dice ecco anche lì lui usa spesso questa verba lui usa spesso il termine forse 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 anche lì dice forse forse in ogni città c'è un'ora c'è un momento magico il momento stupendo il momento e sta in noi coglierlo no e quindi anche anche in questa città all'interno della città segregata dalla città perché i muri del cotolengo sono altissimi questi vanno messi lì dentro chiusi a chiave e basta che non se ne parli più perché sono sono spaventosi alla vista no e appunto possono turbare la regolarità della vita degli altri anche in questa città nella città anche in questo ma anche nei racconti dei prigionieri dei gulag anche nei racconti dei prigionieri dei gulag no sia sia i lag nazisti sia sia i gulag russi si incontrano a volte momenti e pagine di questo genere adesso non vorrei essere anzi no non lo dico perché sarei veramente rispettoso rispettoso perché vorrei fare un paragone un paragone personale di quando ero militare che non ne potevo più ma proprio non ne potevo non vedevo ero lì che mi cervellavo tutti i giorni cercando un modo di uscire di andarmene via perché non volevo stare poi uno mi ha insegnato il segreto lasciati andare lasciati andare ma aveva detto proprio questo un sardo un soldato sardo lasciati andare lasciati andare e vedrai che anche in questo posto che detesti eccetera c'è è un momento di divertimento di sosta adesso è un esempio molto personale l'ho detto subito è anche stupido forse no però in ogni situazione ma te lo dicono i carcerati io sono stato in carcere io sono non come carcerato ecco no non come carcerato anche se dopo questa lezione qualcuno di voi dice beh sarebbe stato meglio che tu fossi tu fossi in carcere ma anche in carcere visitando il carcere che è una roba che dovremmo fare tutti ogni tanto no perché entrare in questi corridori mica sono lager come questi come queste situazioni ma entrare in questi corridori e ogni 20 metri sentivo un chiavistello che si chiude e è una manetta che si che che viene e che viene liberata e cling e clang e cling anche nel carcere mi dicevano questi carcerati anche nel carcere ci sono dei momenti proprio come nel momento finale lì quando queste suove instervienti spingono e ridono ma come puoi ridere in un po' ma certo perché l'umano non si rassegna mai non si rassegna mai mai e poi mai alla disperazione assoluta lo vogliamo in questi giorni no gente salvata dopo 80 ore sotto sotto le macerie e c'è uno scrittore che a lui piaceva molto e che in qualche modo ritorna qui dentro il Cottolengo no ed è Campanella è Tommaso Campanella uno che sta sotto terra praticamente se non ricordo male per oltre 20 anni se non ricordo male ho circa 20 anni e da sotto è chiuso ed escluso totalmente ti scrive la città è solo allora c'è sempre l'umano questo ci dice in fondo l'umano anche lontanissimamente c'è sempre un bagliore di possibilità di positivi prego chiedo se ci sono delle domande o degli interventi dal pubblico buonasera questa conclusione questa dell'inferno mi ha ricordato le città invisibili che si conclude con questo dialogo tra il narratore Kublai Khan dice appunto l'inferno cioè la struttura binaria ancora una volta quindi l'inferno dei viventi non è qualcosa che sarà se ce n'è uno è quello che è già qui sotto gli occhi di tutti due modi ci sono per non soffrirne il primo riesce facile a molti cioè accettare l'inferno e diventare parte fino al punto di non vederlo più e il secondo è rischioso ed esige attenzione apprendimento continui cercare e saper riconoscere chi è cosa in mezzo all'inferno non è inferno e farlo durare dagli spazio ecco non ricordavo questo della giornata di uno scrutatore quindi c'è questo tema che ricorre allora in Calvino ma c'è sempre in lui voglio dire anche quando lui abbandona diciamo il romanzo lo schema classico del romanzo dello scontro dell'incontro della situazione dell'uomo nella storia eccetera da questo romanzo in poi non ci sarà più questo ma un segnale positivo c'è sempre voglio dire lui esce dal partito comunista non ha più la tessera diciamo del partito comunista se ne va per conto proprio a Parigi dove farà che farà delle esperienze ma Calvino rimane sempre non è che qualcuno cerchi in qualche modo di mascherarlo di trovarci chissà che cosa o di servirsene in chiave anti anti sinistra Calvino rimane sempre un uomo profondamente di sinistra profondamente di sinistra non è un uomo non è più non è più il funzionario della cellula comunista ma insomma diciamo i suoi valori la razionalità la tensione illuministica la speranza che nel che in un futuro lontano comunque le cose cambiano e lo fanno proprio un uomo di sinistra insomma non c'è abbattimento anche in questo anche in questo libro di fronte addirittura nel momento in cui è immerso nel girone più brutto degli ultra irrecuperabili scopre qualcosa che può servire al suo amore per Lía no al suo amore per Lía serve lì trova qualcosa l'amore per la suora che che indipendentemente dà beh allora anch'io posso in qualche modo nonostante questa sia prelogica sia irrazionale mentre lui parla dei grandi dei grandi problemi dell'umanità questa senti senti questo disco quella scena lì è è bellissima altro che gratuita quella scena lì è bellissima lì entra in gioco anche la misoginia di Calvino che abbiamo detto nella prima lezione no è un misogine questa insomma è una stupidina insomma è una stupidina però è una stupidina lui in quella situazione di 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 aberrazione di brottura scopre qualcosa che può servirgli per recuperare comunque un rapporto più affettuoso e d'amore con la sua donna e quindi lui recupera sempre qualcosa non si abbandona mai Calvino alla disperazione questo è il suo fondo il suo fondo il suo fondo illuministico che poi ci sia pessimismo e poi ci sia ci sia pessimismo come è stato dimostrato adesso non voglio fare le citazioni di filosofi eccetera eccetera no ma chi ha scritto sulla dialettica dell'illuminismo chi parla di dialettica dell'illuminismo bene dice che cosa che c'è anche la negatività nell'illuminismo nel mio c'è una che certamente va superata ma c'è la negatività no e quindi il suo recupero c'è sempre in questa chiave ci sono altre domande se non c'è nessuno ma intanto ringrazio il professore per questa lezione perché poi ci ha confermato quello che è una conferata non è una non è una non ho capito cioè che ogni volta che si legge questo libro si colgono aspetti io l'ho letto qualcune volte e l'ultima volta l'ho letta adesso per questa questa serata ed è vero e poi lo dice lo stesso autore mi pare che c'è una sua espressione a pagina 86 del libro non so se sia la stessa edizione sicuramente si sa come sono quei momenti in cui pare di aver capito tutto magari un momento dopo si cerca di definire quel che si è capito e tutto scappa cioè in pratica è un libro che è difficile è difficile portare a sintesi voglio dire però le due cose che stasera sono emerse mi sembrano di poterle condividere quello dell'umanità la solidarietà l'amore del padre verso questo questo figlio questo figlio che viene descritto in maniera in maniera molto molto suggestiva e però dopo c'è anche un altro aspetto che secondo me induce all'ottimismo e cioè l'homo faber ecco l'homo faber ecco a me pare che questo sia oltre che l'amore quando venga fuori guarda che nel lavoro c'è la prospettiva di 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 recupero dell'umanità perché l'homo faber è l'uomo che è svantaggiato in tutto manca le mani però sa fare tutto sa profino tirare fuori dal pacchetto delle sigarette la sigaretta da mettersi in bocca per per accendere ho segnato molto di scrivere sul libro ma questo mi sembrava uno spirale di ottimismo verso anche l'umanità capace di darsi di darsi anche un futuro e una prospettiva una domanda specifica se me la spiega a pagina 92 c'è una battuta che non sono riuscito a decifrare ogni nonna malata è sempre un lupo quello non l'ho capita bene neanch'io bene neanch'io nel senso che almeno penso che la spiegazione possa essere questa perché non è messa giù bene diciamo così non è messa giù bene tanto che le vengono che le vengono dei dubbi e che dietro allora dietro ogni donna malata può essere nel senso che se vai dalla nonna per aiutarla per soccorrere eccetera cioè se fai se pensi di fare qualcosa di buono qualcosa di utile stai attento perché c'è anche la minaccia di morte per te la minaccia nel senso che dietro dietro ogni atto d'amore può esserci anche una sconfitta io l'ho interpretato in questo modo ma 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 guardi ma è interessante che giustamente e giustamente l'ha accolta lei io poi so chi è lei perché è una persona di straordinaria intelligenza e di riflessività no no lo so lo sappiamo tutti no sì no lo so ma 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 il fatto che io non ho trovato un'edizione un'edizione della giornata di uno scudatore un'edizione commentata almeno io non non sono riuscito che mi spieghi questo passo non c'è nessuno cioè te li spiegano tutti ma questo però non te lo spiega nessuno e io penso che io credo che voglia che voglia dire questo dietro ogni nonna malata vai per assistere la nonna per aiutarla perché le vuoi bene quindi compi un atto d'amore stai attento però stai attento perché c'è pronto ecco il coso binario no perché c'è pronto subito un'insidia in ogni atto d'amore ci può essere anche dietro ogni atto d'amore ci può essere un'insidia un'insidia minacciosa ci può essere un lupo che ti mangia ci può essere un lupo che ti mangia io l'ho interpretato così però non l'ho trovata sulla cosa che ha detto prima io infatti avevo detto avete quando parla dell'uomo Faber e di tutte le sue possibilità senza limiti avevo detto in qualche modo pareggiando così dalla parte progressista la difficile giornata dello scrutatore arrivata all'ultima pagine Calvino Calvino sente il bisogno di pareggiare un po' voglio dire questo questo questa Amerigo Ormea quindi dopo questa frase dopo questo dopo questo finale noi dobbiamo immaginarcelo che torna a casa come torna a casa sì con un'esperienza travolgente spaventosa ma torna a casa rimanendo comunque un iscritto al partito comunista a uno rimanendo uno che pratica il razionalismo che non si arrende di fronte al negativo eccetera eccetera torna ad essere quello di prima più arricchito senz'altro ma l'Amerigo Ormea che torna a casa è solo in parte diverso da quello che è uscito di casa è più ricco ma è sempre lui però è è sempre lui e ho detto appunto ho detto in qualche modo pareggiando così dalla parte progressista la difficile giornata dello scrutatore cioè Calvino non è più iscritto al partito comunista ma sente che in qualche modo deve pareggiare questa faccenda non può lasciarsi andare esiste il brutto e basta che non può essere contro no c'è uno spiraglio l'uomo fabio questa immagine poi è bellissima guardate questa immagine quindi questo che poi dice alla fine le suove sono tutto le suove sono sono ecco sono sono straordinarie beh sono tutto beh sono tutto perché sono questo svantaggiato con questo testone enorme brutto con i moncherini eccetera guardi fa tutto tira la sigaretta se la tira fuori accende il coso l'uomo l'uomo può sempre può sempre costruire può sempre l'umanità in questo senso è un messaggio positivo alla fine in un libro che in certi momenti ti butta proprio con orecchie bassi ti butta giù proprio in certi momenti no è come da resto la sua formazione suo autore preferito anche se soprattutto quello quello delle delle operette morali è Leopardi no anche Leopardi non dobbiamo dimenticarci nella ginestra prima or poserai per sempre stanco mio corpo perì l'inganno estremo che eterno mi credei ben senti noi di cari inganni non che la spemi il desiderio è spento da questo ormai sospiro un'ultima volta il genere nostro il fatto non donò quel morire però dopo nella ginestra c'è la social catena c'è l'uomo faber c'è la società c'è la società c'è la città potremmo anche dire dire con Calvino no se c'è una città qui c'è una città dentro il cotolengo c'è una città perché il cotolengo stesso è una città perché vive di regole proprie e di ritmi propri però in ogni città c'è sempre questa possibilità di costruire di costruire infatti le sue ore cicciotele o grassi addirittura che spingono il carro con la biancheria ridono e quindi insomma se ridono ci sono altri interventi? sì Elisa Germini buonasera io volevo ringraziare il professor Allegri una una lezione che ci porta davvero indietro parlando di politica due osservazioni quella che io leggendo rileggendo insegnando ai ragazzi questo è un libro pieno di gesti pieno di piccoli passaggi del viso descritti da Calvino con tanta generosità in questa città interna come ci diceva allora mi chiedo se lo scrutatore a volte questo scrittore che usa il linguaggio con esattezza non ci proponga di superare il linguaggio osservare bene e scrutare bene la realtà che ci circonda ecco questo è il modo con cui io a volte leggo anche Calvino tutti questi gesti fatti di amore nel finale dolcissimo ecco questa è la prima domanda che vorrei fare un scrittore che riesce a superare lo stesso linguaggio e la seconda domanda la seconda riflessione mi chiedo se la bruttura proposta nella giornata di uno scrutatore sia quello dello sfondo dell'opportunismo politico e dello sconto anche indecoroso a cui assistiamo nel romanzo ma certamente Calvino è proprio un descrittore ma anche nelle favolette anche nelle favolette lui coglie particolari coglie sempre particolari non coglie mai l'insieme voglio dire più che l'insieme di una persona o di un personaggio ci dà il personaggio ci restituisce il personaggio attraverso i particolari no la parte per il tutto possiamo dire no ed è proprio beh lui lui è un analitico proprio per predisposizione predisposizione biologica proprio è proprio fatto così e qui conta ecco perché la prima volta io mi sono soffermato tanto sulla famiglia no ma le famiglie pesano guardate che le origini le famiglie le famiglie pesano questo nasce in un ambiente in cui sono tutti scienziati sono tutti scienziati e sono tutti scienziati di scienze esatte oppure di scienze non meglio scusate di scienze naturali no la chimica la biologia le erbe i fiori le piante le rocce ci sono anche geologhi tantissimi no e l'esattezza l'esattezza la cura per il particolare ce l'ha nel suo DNA perché li viene da casa perché li viene in modo naturale e biologico dai genitori quindi è sempre accuratissimo ed è accuratissimo sempre anche quando invece tutto è fantasia nelle città invisibili c'è una cura maniacale nel descrivere qualcosa che non esiste poi perché non esistono che poi non esistono no e quanto all'altra all'altra cosa ci sono riferimenti politici sì ci sono sì ci sono ci sono diciamo per la generazione sua e anche per la mia anche allora quando si vota quando ci sono le elezioni ogni volta io dico che non voto questa volta non voto alle alle sette meno un minuto della domenica io sono davanti al seggio alla porta del seggio a due lave con le suore che sono che sono sempre le prime che arrivano che arrivano al seggio perché dico magari oggi muoio e quindi il mio volto il mio volto è perso allora alle sette alle sette sono lì e e anche le suore sono lì anche le suore io credo che ma i tempi sono mutati certamente non siamo mica più al 53 tra noi 53 addirittura al 63 ma forse neanche non siamo più neanche al 79 all'82 quegli anni lì in cui ancora c'erano ma certamente diciamo l'impegno politico questo libro è anche un documento è anche un documento per un ragazzo che oggi ha 15 anni o 16 anni e lo legge e lo legge a scuola il professore o le note gli dicono e gli devono dire chiaramente che cosa è andato a fare quello guarda che quella volta lì quella volta lì è successo questo quest'altro eccetera eccetera quindi certamente è un messaggio che vale ancora oggi che vale ancora oggi perché perché sia appunto io ogni volta dico basta un voto non voto più eccetera poi non so sarà per educazione o per generazione o per generazione che insomma io non rinuncio non rinuncio ad esprimere un voto e non bisognerebbe mai rinunciare è spaventoso sapere che questo io qui non faccio discorsi di destra sinistra eccetera eccetera ma resta il fatto che abbiamo un Parlamento eletto praticamente se si tolgono le schede bianche e le schede nulle da meno della metà dei cittadini è una vergogna no è una vergogna che poi in Occidente ormai ormai sia così è un gran brutto segno è è un gran brutto segno e penso che che bisognerebbe bisognerebbe lavorare su questo no ma proprio parlavo giorni fa proprio diciamo con mia moglie su una cosa dice ma ti ricordi che compravamo il libro di educazione civica perché la pagella di storia non era pagella di storia era storia ed educazione civica mai fatto mai fatto un'ora io a scuola di educazione civica educazione civica era diventata l'ora come l'ora di religione in cui si rifanno i compiti che non hai fatto a casa fai la battaglia navale e fai questo ed è una vergogna questo è una vergogna adesso senza perché non è che mi piacciono poi tanto queste robe qui ma senza arrivare al punto di parlare della Costituzione al Festival di Sanremo no ma ci può anche stare che ne so non lo so sono molto binario in questo anzi sono sono ottrinario non so ma la Costituzione noi non la conosciamo davvero noi non la conosciamo davvero e ci sono degli articoli che sono sono veramente belli sono sono veramente belli eh sì sì anche dal punto di vista letterario come adesso salto proprio dall'altra parte faccio faccio il binario come leggere per esempio l'Artusi il 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 libro di ricette stampato nell'Ottocento ma piuttosto di leggere certi romanti dell'Ottocento è meglio leggersi l'Artusi perché dal punto di vista letterario e linguistico è una meraviglia leggere la ricetta dell'Africa Sea come è stata scritta nell'Ottocento da un punto di vista linguistico è stupenda e la Costituzione è scritta linguisticamente e poi c'è un'altra cosa perché io ho conosciuto ma come tanti come tanti di voi penso io ho conosciuto molti di questi padri costituenti quelli della mia città io li ho conosciuti tutti per i nove decimi era gente di estrazione diciamo sociale quasi modesta hanno fatto un capolavoro e come si sono impegnati no e quindi tutti dovremmo un po' fare i discutatori siccome ci avviamo alle conclusioni direi che con un sorriso amaro l'unico personaggio negativo ma nettamente negativo senza possibilità di così di indulgenza è l'onorevole sì tra lui e il prete sono due personaggi mi pare due le hai citati tu la suora il contadino e l'onorevole che è esattamente l'opposto sì l'ha detto lui che l'ha inventato però però avendo modelli modelli però tutti quanti abbiamo fatto un pensierino sì però addirittura l'onorevole è peggio del prete perché il prete a un certo punto perché il prete ha una sua missione ha una missione e come ci crede anche e lì mi viene in mente quello che non ricordo il nome mi ha appena detto la la descrizione il il fulcro della descrizione del prete che ci restituisce quello che è cioè uno che è da battaglia proprio è il prete dice con un basco un basco schiacciato in testa che ti restituisce più di ogni altra cosa il prete da combattimento di quello di quello che va e lì è bravissimo con un particolare ti dà ma il prete a un certo punto anche lui insomma invece l'onorevole proprio arriva saluta eccetera e non vedo loro andarsene via anche c'è una domanda sì certo allora il signor tanto non vedo il signor Franco dice non potrebbe rappresentare il nostro anche una crisi di metodo e un processo alle facoltà conoscitive della letteratura grazie sì infatti la fine la fine dopo questo romanzo lui ho detto proprio scusate ma non per autocitarmi ma per essere ma per essere chiaro è il suo primo congedo l'abbandono della letteratura come tensione tra soggetto e storia la grande letteratura il grande romanzo il grande romanzo da guerra e pace Thomas Mann alla montagna incantata romanzo stupendo eccetera è comunque è letteratura nel senso che racconta la tensione tra il soggetto e la storia e la storia quindi è un addio proprio anche a questo tipo a questo tipo di letteratura dopo la quale cosa ci sono ci sono ci sono le cosmi comiche ci sono le cosmi comiche che saranno anche divertenti no questo mino Q F V adesso non mi ricordo più esattamente devo sempre segnarmelo va bene questo mino che sembra di sentirlo con una voce pietulante eccetera che ricorda e lo ha confessato Calvino lo ha confessato qual è il modello di quel personaggio lì è braccio di ferro è poppeia no è braccio di ferro questo ci riporta alla prima conversazione che abbiamo avuto grande divoratore di film cartoni animati e fumetti e fumetti no se una notte d'inverno viaggiatore abbiamo detto era una notte buia e tempestosa e Snoopy proprio no e quello mino lì petulante questo personaggio qui ricorda in qualche modo braccio di ferro eccetera ma che personaggio è come puoi inserirlo nella storia non lo inserisci per niente nella storia no assolutamente no è la fine di un certo tipo di letteratura nello sguardo di Calvino nell'ottica di Calvino poi ci sono altri che invece continuano sul vecchio sul vecchio non so prendo più o meno contemporanea lui Fenoglio o Meneghello parlano proprio del rapporto anche tra uomo e storia tra il soggetto tra il soggetto e la storia il signor Franco ringrazia grazie per avermi io ringrazio il signor Franco bene se non ci sono eh altri interventi allora eh ricordo che c'è il foglio firme per gli insegnanti che richiedono l'attestato e noi allora ci rivediamo il 28 febbraio con e nelle città invisibili grazie grazie a voi grazie a voi